Io vorrei intanto farvi sentire, ora vedremo salvo, però vi faccio capire come, vi faccio un attimo sentire come è nata il nostro, come abbiamo iniziato a sentirci. E ragazzi, io apprezzo sempre quando mi cagate i coglioni sulle cose dove vi sentite che avete i coglioni cagati, apprezzo sempre quando prendete il tempo per spiegarmi, soprattutto in maniera logorroica, quindi non sei stronzo e basta Marco, ma con una spiegazione, quello che non vi va. Non pensate veramente sia quella persona che legge solo i commenti positivi, perché mi annoiano velocemente, perché che sono un genio, già lo so, non c'è bisogno che me lo dite voi. Ok? Andiamo un attimo a sentire salvo. Grazie Mob, grazie Tiziano. Ciao Marcolino, TVB. Ciao, grazie mille. Ciao Zeta, ciao. Marco sei lo stronzo più simpatico di tutti, mi difendo. Buonasera Muffin alla cacchina dolcina minore 3. Grazie. Ero un po' arrabbiato salvo, quindi... Marcuzzo, io non so se tu sentirei mai sto messaggio. Comunque, sono un tuo fan parmitano che per l'ennesia a volta si offende, sentendoti parlare male della nostra calamata terra. Il tuo memmino divertentissimo, amico che odia Sicilia, fa sempre più ridere. Sì, 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 ho 33 anni e faccio il medio allo mio torro, perché sono super... 34! Alternativo. 34! Come sono l'opposto tuo? Abbastanza tarrone in tutti i sensi. E tu odi questa gente che ama la sua terra e le sue rodici, perché tu non le hai? Se ti va qualche volta di confrontarti su temi, quindi su cose dove effettivamente tu puoi sfoggiare la tua pseudo-conoscenza di un problema, scrivimi pure e lo facciamo. Altrimenti ridi di questa cosa e mi mandi a fanculo. Tanto sai fare entrambe bene le due cose. Ragazzi, non... L'ho fatto sentire per farvi capire... Cioè, perché lo dovete prendere in giro? Io smerdo tutto in una maniera così volgare e senza contesto a volte. Perché dovete prenderlo così? Semmai coltivo ciò che è semino, no? Ed è per questo che l'ho contattato e volevo sentirlo oggi. Non partiamo prevenuti. Non diamogli dello stupratore solamente perché a Palermo è successa quella cosaccia. E iniziamo. Che cazzo è questa roba? Che cazzo è sta roba? Che cazzo è? No, come ho fatto? Come si toglie? No, come ci sono riuscito? Ma è bellissimo! Ma come ho fatto? Ma è spaventosissimo! Sono in mille luoghi diversi! Doctor Strange! Ma che... Aspetta! Aspetta che chiudo e riapro. Cosa? Come? Ma che... No! 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 Ma che vuol dire? Fa freddo! Surriscaldamento ma non è vero! No! Ma che cazzo vuol dire? No! No, ti prego! Mi sei mancato, Marco Lino, mi mandi un mega bacino! E quindi... E quindi... Dobbiamo fare... Ma tutta la videocamera è andata a fanculo! Allora, io non ho tanti problemi! E voi? Non è malissimo! Non è bene! Ma non è malissimo! Non è benissimo! Clemente, grazie che mi hai mandato lo screen di qualcosa che già vedo! Non farmi incazzare! Scusami! Scusami! È che quando parlo con i palermitani, sai! Dai! Cerco di contattarlo! E vediamo! Mai visto una cosa del genere, davvero! Che succede? Pronto? Mi senti? Sì, salvo! Tu mi senti? Sì, ma non ti vedo! E io neanche ti vedo nonostante abbia attivato la telecamera! Aspetta, aspetta! Però... Ti vedo? Ti vedo, ti vedo! Ciao ragazzi! Aspetta un attimo! È stato lui sono i colori del Palermo! È stato lui sono i colori del Palermo! Lascia perdere! Aspetta! Ah, è la maglietta del Palermo! Sì, sì! No, ora spiego pure la lore della mia voce in quell'audio, perché la gente mi prende per il culo, ma c'è un motivo! No, ma no! Ma io già li ho rimproverati! Io già li ho rimproverati! No, no, no! Ma io faccio parte di loro! Cioè, nel senso, io ti seguo più quando sei live con Daniele, però sono tendenzialmente così pure io! Quindi, ok! Però che bello che tu mi hai detto, e non voglio... perché io ti avevo detto che non volevo farmi vedere, no? E tu mi hai detto, eh, però un po' per i ragazzi io non vedo un cazzo comunque, cioè, su Discord non ti sto vedendo, poi evito di vedere! Allora, non so se sai cosa è successo alla mia videocamera in live, ma... Ho visto, è stato incredibile che sia successo nel momento in cui mi stavi chiamando, eh, è fantastica questa cosa! Aspetta un attimo, ok, allora cerco di fare una cosa un po' truffaldina... Ovvero questa! Così camuffiamo! Eccoci! Dai, va bene! Eccoci! Ciao Salvo, piacere! Sei un bel ragazzo! Grazie, nessuno me l'ha mai detto a parte la mia ragazza! Faccio, tra l'altro oggi, otto anni con lei, e parlo con te qui, perché lei mi ha detto va bene, parlo con Marco Merrino! Ma... ti vedo un po' con lip-syncing molto in delay, pensi sia un problema mio? Eh, boh, forse... altrimenti come... Sta andando tutto ultra male, se vuoi facciamo solo audio come avevamo pensato all'inizio! Va bene, bacini! Facciamo solo audio, dai! Cioè, basta togliere la telecamera, alla fine! Eccoci! Eccoci qua! Eh, boh, sti colori, non li capisco! Quindi, Salvo, io intanto volevo... Grazie Twitch Barboggi! Io intanto volevo risponderti a quello che mi hai detto sul vocale! Ovvero che... Twitch Barboggi, grazie! Che per me non è mai stato un meme sfottere la Sicilia! Era un po' come mi sono sempre sentito! E se pensi che abbia voluto... ...battere il ferro... Effettivamente l'ho fatto, ma solamente... No, di solito interrompo tantissimo! Lo so che magari ti può dare fastidio questa cosa! No, basta! Dimmi, dimmi, dimmi! No, mettiamo in chiaro la cosa! Il discorso è che io ero veramente, veramente arrabbiato! Io mi arrabbio sempre quando guardo... Ma cosa hai sentito che ti ha fatto arrabbiare? Allora, tu considera che ogni qualvolta che si parla della Sicilia... Tu parli, tra l'altro, parli sì della Sicilia in generale, però in realtà molto spesso parli solo di Messina e fai una bellissima sineddoche, no? Quindi parli della Sicilia... Che vuol dire sineddoche? È la parte per il tutto! Ok, generalizzo! E sostanzialmente questa cosa mi fa incazzare, perché dico... Ok, io Messina la conosco molto poco! Io ho avuto la possibilità di lavorare a Rocca di Caprileone, non so che conosci, è vicino Capodorlando e Sant'Agata, Militello! Ok! Zero, ok! Beh, lo conosci la tua terra, fantastico! Però, capì, il discorso lì era proprio a muzzo dirti... Lo fai per il meme! Perché io ci credo che tu sei incazzato! Cioè, io ho un sacco di amici, ti giuro, nessuno è d'accordo con me su questa cosa! E questa cosa non lo so! Da una parte ti dovrebbe dare... Dire, ok, non sono l'unico che la pensa così, quindi non è vero che fai l'alternativo! Io lo dico tanto perché so che ti fa incazzare quando qualcuno... Ma anche perché... Anche questa cosa qua che avevi detto... Anche perché alternativo di cosa? Cioè, moltissima gente si è un po' accorta delle schifezze in Sicilia, o comunque del degrado, soprattutto sociale! Quindi, alternativo di che? Secondo me è un po' una divisione a metà, ma specialmente per quanto riguarda le età, sul amarla o odiarla! Quindi alternativo, boh! Sì, allora, ok, il discorso fondamentale è la parte così, ora ti spiego un pochino come è la situazione! Ah no, però aspetta, aspetta, rispondimi a quello che ti avevo chiesto, però cosa avevi visto che ti aveva fatto incazzare? Ecco, ecco, ecco! Il discorso è che, allora, tendenzialmente me la generalizzazione sulla Sicilia nel momento in cui tu dici i miei fan del sud sono più stupidi, questa cosa mi ha un pochino... Cioè, normalmente avrei riso, ok? Ma in quel momento, non lo sto, sarà un po' come l'hai detto, con un po' di cattiveria, con un po' di verità... Però prendevo un sacco per il culo! Cioè, facciamo veramente lo scemo! È vero, cioè, quello che ho detto nel video, ovvero le reazioni dei fan al quando mi vedono, c'è una grossissima differenza fra il nord e sud, però avevo fatto anche un po' una scenetta per dire, va bene anche così... Ti dico, il video quello che tu hai fatto, scusa Messina, quella in realtà io l'avevo apprezzato! Cioè, allora, io l'altra volta, in preparazione di questo, quando ci siamo scritti la settimana scorsa, volevo rivedermi un po' di tuoi momenti contro la Sicilia, ok? Ah, ok! Maratona contro la Sicilia! Eh? Maratona Marco contro la Sicilia, bello! Sì, sì, è stato bellissimo, perché mi volevo incazzare, perché in quel momento ero contento, perché sono un tuo fan in tutto questo, cioè, sono contentissimo di poter parlare con te, capito? Cioè, io ti seguo da... da tanto tempo, capito? Cioè, ti seguo da quando facevi i pazzi ragazzi, ma è vero! Non prende in giro, infatti è bella come cosa! No, ma io ti voglio veramente bene, Marco, nel senso... Non so, io parlo, quando dovevo fare determinati discorsi, a volte parlo come te, nel senso... È inutile che in chat ti dicono, eh, che coglione! Ma anche loro fanno così, cioè, loro lo sanno, loro lo sanno che fanno così! Questi qua, prima danno del coglione a te, poi vanno da Dario a scrivere e ci sta, lasciali perdere, sono pazzi! Esatto! No, 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 ma ripeto, sono come loro, e loro sono come me, quindi a posto! E questa cosa è meravigliosa che io sto parlando con te, quindi ero contento del fatto che avremmo potuto parlare assieme! Anch'io, anch'io! Questi discorsi, tra l'altro, erano un po', magari strano, però io quando finisco di vedere un video che mi fa incazzare qualunque, tuoi o di qualunque altra persona, è un po' in testa, e anche un po' veramente, io faccio il discorso come se stessi parlando con lui, dico, senti, ma che cazzo hai detto? E comincio a fare un discorso nel senso, perché hai proprio torto su questa cosa di qua? E io l'ho fatto sempre, ogni volta che tu dicevi determinate cose, Stuvi caricava spezzoni dove tu insultavi determinata cosa, e io ero molto contro, mi capitava di dire, ok cazzo, io lo dovrei dire, ma non ho i coglioni per farlo. Quella volta lì c'è stato il fatto che, ho visto il tuo video di prima mattina, cioè quello spezzoni ricaricato da Stuvi di prima mattina, il giorno stesso poi di sera c'era la partita allo stadio del Palermo, perché io sono grande diposo del Palermo, sono poi gli ultras in curva nord, quindi siamo totalmente l'opposto. Quella partita di merda noi l'abbiamo persa con un gol al 91esimo, porco Dio, perché tra l'altro ha segnato un tizio che si chiama Gigi Canotto, se c'è qualche cosentino in chat, tutti quanti forza Canotto, e questo figlio di buttana ha esultato sotto la curva nord, che è una cosa gravissima, quindi entra nella mia ottica, persona strafomentata dalla mia città, dalla mia squadra, dal senso di appartenenza profonda, come lo può essere qualunque persona con... Di qualsiasi cosa, sì, sì, sì. Sì, in serie tv, anime, videogiochi, tra l'altro io non ti seguo per questo, cioè non ti seguo per gli anime, non ti seguo per i videogiochi, vabbè per gli anime, per il meme di AOT forse, ma non li guardo, non li seguo, non me ne ho fatto un cazzo, ti seguo perché mi hai sempre tenuto compagnia, è stato sempre bellissimo. Grazie. Mi piace sentirti parlare di cose, perché parli veramente veramente bene, ma non ti volevo leccare il culo, ci dobbiamo scannare in realtà per me. No, ma infatti non giustificarti, se tu mi dici una cosa ci credo. Ok, grazie. E quindi tornavo a casa, quindi senza voce perché in curva si canta, si urla, si insulta, l'altra, la tifosera avversaria che ti vuole lanciare addosso la roba e tu invece dici no, vaffanculo perché io sono meglio di te, per qualche strano motivo, ma è così. Tornavo arrabbiato e ripensavo, ma che cos'è che ti fa veramente incazzare oggi che stai tornando così a parte aver perso all'ultimo secondo? E quella cosa in realtà è la prima cosa che ho pensato del tuo video. E ho detto, minchia, ma sai che forse, buttana la madonna, io devo scrivere a Marco, mandare un messaggio vocale, anzi scrivere perché scrivere, vabbè, no facciamoci sentire, scriviamogli e vediamo se risponde, vediamo che cosa ne esce. E intanto io mi sono sfogato, mi sono proprio sfogato. Questa cosa già mi aveva fatto bene subito, averti detto questa cosa qua. Ti capisco. E poi mi è stato, sei stato un grande. Però nel, capito, nel particolare quello che mi ha fatto incazzare quel video, penso che sia stata la famosa goccia, no? Perché è l'ennesima generazione, generazione, vabbè sì, generalizzazione sul sud. È l'ennesima volta che ti sento dire questa cosa. Tra l'altro, piccola cosa, ma Stufi ha cancellato il video? Perché io l'avevo pure commentato quel video, scrivendo esattamente questa cosa, cioè parte delle cose che un po' dirò, e non l'ho trovato più. Cioè che già mi stavano insultando nei commenti, però poi non l'ho trovato. Se l'hai trovato, mi sa che l'ha cancellato, sì. Ok, ok. Ultra di merda, grazie Matte. Lasciatelo stare, sti, sti, no? No, no, ma sti, non lascia stare. Il fatto è che in quel video, è strano che ti sei, cioè di tutti i video che ho fatto, di tutti i momenti in cui ho smertato Messina, è strano che questo qua sia stato la goccia che ha fatto trabloccare il basso, perché là parlavo intanto dei miei fan, quindi neanche della Sicilia, ma di un surrogato del surrogato. E quindi una volta arrivati a questo punto c'è da dire o mi credi o non mi credi, o mi credi del fatto che sotto i fan sono un po' più legati al meme e al ripetermi le cose come un pappagallo per farmi vedere, per farmi fare le scene, l'acqua non è verde, quelle cose là, oppure pensi che io stia mentendo e che voglia effettivamente creare un meme. No. E questo mi è sembrato un po' strano, cioè come vorresti contrattaccare una cosa che io ti dico è così, è vera. Allora, è chiaramente un tuo punto di vista. Quindi il punto di vista è inattaccabile e sul video stesso in realtà non possiamo parlare, cioè c'è sul video, sull'ospensione lì effettivamente non possiamo parlare. Quello su cui possiamo discutere secondo me è qualche cosa un pochino più ampio, no? Ok. Che finalmente capirei io, che è un favore che tu fai a me in live con 879 persone. Ti faccio un favore senza problema. Eh sì, esatto. Ok, grazie. Che, quindi, ma tu, di questa terra martoriata, di questa città assolutamente problematica che c'hai, ma bellissima per certi versi, non quanto Palermo perché messi in a merda, tu che cazzo sai? Cioè, che sai di quel posto là? Che minchia sai? Cioè, che sai della gente che materialmente fa qualche cosa lì per dire, sì, ok, questo è un posto di merda, però, sai, abbiamo fatto questa associazione X che si occupa di questa determinata cosa, del bene culturale X, oppure all'università facciamo questo tipo di azioni. Sì, è un posto di merda, ma stiamo provando un pochino a migliorarlo perché non è colpa nostra che sai di merda, però possiamo essere a migliorare. La mia esperienza in questo, io sono rimasto moltissimo legato alle personalità del sistema scolastico messinese e in maniera un po' più ampia siciliano, perché sono rimasto molto amico, in maniera specifica, con una delle persone che invitai pure alla mia prima Maratona su Twitch, che è stata pure la prima, Angelo Cavallaro, che ringrazio tantissimo. Lui ha avuto l'onore e il piacere di fare il... è passato da professore di psicologia e scienze sociali a preside. Ricordo, sì. Ok, e poi ha fatto pure il preside in varie altre scuole siciliane. E lui mi ha... noi ci sentiamo abbastanza spesso e mi tiene abbastanza aggiornato sul sistema scolastico e tutto quello che lui cerca di fare per non farlo cadere in malora. In più, terribile notizia che forse ne avevo parlato nelle altre live, ma sta per arrivare, è uno dei primi sistemi scolastici che aderirà questa cosa, è quello siciliano, si chiama tipo psicologia all'italiana, cioè tipo un sistema in cui si cambierà. Le scienze sociali non ci saranno più, ci sarà questa psicologia all'italiana. Ciao, scemino. Grazie, cacchio culo. In cui si darà molta priorità alle scoperte sulla filosofia, sulla psicologia e sulle scienze sociali, però italiane. Quindi sta cosa strana, e lo stanno facendo principalmente per, a detta di questo mio amico preside, perché la fuga dei cervelli è più alta che mai adesso, e lui, come anche io, pensiamo che invece avrà l'effetto contrario. Cioè che se... E quindi questa cosa qua, già un po'... Quindi questo è un po' di esperienza da questo punto di vista, perché questa persona mi tiene un aggiornato. E poi, per quanto riguarda il... Quella dove maggiormente esperienza è l'ambito fieristico, perché non solo adesso gestisco la direzione artistica di molte fiere siciliane, fra cui la più potente, cioè Etna Comics, ma sono sempre stato vicino alle personalità che hanno gestito, hanno cercato di portare un po' di cultura, soprattutto un po' di quella cultura un po' globalizzante del sistema, dell'ambito pop in Sicilia. Quindi questo è quello che io so della Terra. Cioè questa è la mia esperienza. È in più quello soggettivo, ovvero quello che ho vissuto io e che ho sempre raccontato. Esatto. Ovvero che... Vabbè, queste cose qua le sappiamo tutte in memoria. No, infatti, infatti. Però il discorso era la domanda prima che tu sostanzialmente poi partissi per Milano. Insomma, prima in realtà che tu diventassi effettivamente Croa 89, quindi... Prima di... Prima di Marco Merrino che conosciamo tutti, no? L'uomo cacca e tutte le altre cose. Vabbè. Scusami, scusami. No, tranquillo, tranquillo. No, no, la domanda che era anche un po'... Forse un pochino... Come dire... Cioè... Volutamente ti doveva far forse fare un pochino incazzare questa cosa. Nel senso che... Quando una persona ti chiama ipocrita, no? Tu ti incazzi sempre... Cioè, nel senso, tu, generico, ti incazzi sempre perché tu dici No, cazzo, non sono ipocrita. Io mi muovo e ragiono sempre con una certa coerenza. Se io faccio A è perché penso A. Ed è giusto così. Stai parlando di me? In generale. Ma tu ovviamente fai pure così. Nel senso... Sono una persona citata dell'ipocrita, non è una bella cosa, ho capito? Ecco, tendenzialmente sì. Ora, secondo me è un po' ipocrita il dire... Io faccio il direttore artistico dell'Etna Comics, quindi, in un certo senso, io già conosco la mia terra. È un po'... Cioè, è un pochino... Arrampicarsi un pochino sugli specchi, sento i piedini scivolare, capito? No, no, tu mi hai detto cos'è che conosco e tu hai detto cos'è che conosco. Non ti ho detto che conosco la... Ho detto che sono questo della mia terra. Perché tu mi hai detto cosa sai della gente che porta qualcosa. Io ti ho risposto. Ok. Ah, ok, ok. No, va bene. No, 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 tu chiami il cazzo, ok. Che vuol dire? Cioè, mi stavi dando di quello che dice... Ma che cazzo dici? No, il discorso è uno. Cioè, tu, allora, insulti soltanto per una roba personale. Cioè, tu insulti la tua terra, la tua città e tutto quanto per una roba strettamente personale. Per la... Come hai vissuto tu la tua condizione familiare, molto particolare. La... Come vivevi tu la tua adolescenza là dentro. Dove effettivamente è oggettivo. Abbiamo... Che ne so... Esempio stupidissimo. Riapriamo la piazza X a Palermo perché è stata chiusa. Mi sono battuto una vita per fare questa cosa. Mi hanno mandato a fanculo. Io deluso e dico... Sai che c'è? Va a fanculo. Me ne vado a Verona. Un posto meraviglioso. Lavoro là e basta. E là, discutere con una persona del genere che mi dice... Sì, sì, è un posto di merda. Io non te lo consiglio. Cioè, ho perso le speranze. Già mi farebbe un po' meno male sentire una cosa del genere. Ma sentire una persona, a cui comunque si voglio bene, che sei tu, smerdare continuamente per ragioni non del... Io ho provato a fare qualcosa, lo smerdo lo stesso anche se non ho fatto un cazzo per materialmente cambiare anche una sola virgola. E lo so che è un discorso un po' del cazzo. E che tu l'hai ripreso a volte questo discorso del non puoi criticare se non fai qualche cosa. E' un discorso del cazzo. Ma in realtà è vero. Non è un discorso del cazzo, è vero. Però tu quindi mi stai dicendo, pensi che non abbia fatto un cazzo? Io penso che tu materialmente, quando parli del problema, che cazzo ne so, della... Ah, anche banalmente, non lo so, dell'offerta di spazi, no? Per ragazze e ragazzi in Sicilia, che sono costretti soprattutto se abitano nell'aria interna e a scappare comunque, non lo so. Se ne vanno per problemi che riguardano proprio il materialmente poter vivere all'interno di quei territori. Ok, ok. L'organizzare solo... fare soltanto il direttore artistico dell'Etna Comics, mettici mille virgolette in solo, ok? No, no, ma tu stai parlando di qualcosa di adesso. Che poi, infatti, solo... Io ho sempre... Ma ho accettato da sempre qualsiasi invito a fiere, dove potevo benissimo dire di no. Perché io da piccolo ero così infognato nell'odio verso questa terra. Ed era micidiale, perché era molto carburato da una roba molto soggettiva. Cioè io ho vissuto male, perciò gli voglio male. Ma poi era una cosa così belenosa che si espandeva pure verso i miei genitori, amici, fidanzate. Stavo male, ma tutti lo sanno. Però quando mi è arrivata l'opportunità di partecipare anche solo come ospite a queste cose qui, mi è subito arrivato questo concetto qua del... Ma mi ficco la lingua in culo se rispondo di no a queste fiere. Se poi mi lamento tante volte. E io non sto neanche parlando di una questione lavorativa, perché molte delle prime fiere che ho fatto in Sicilia erano gratuitamente. Io lo dico senza problemi, che i primi cinque anni a Electronics sono andato totalmente a gratis. Perché? Perché volevo vedere voi e perché non potevo cadere in questa ipocrisia che dici tu. Però questo è da dividere, perché questo è un po' il futuro. Se vogliamo parlare del passato, visto che è nel passato che ho coltivato il mio dissenso totale verso quella terra, verso Messina, io fin da piccolo ho sempre cercato di aiutare, di organizzare feste, di organizzare... anche solamente... Il Black Swan Party. No, 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 non quella, non quella, non quella. Ma anche solamente muovermi a andare nei teatri, a dire ragazzi sto creando una realtà video, vogliamo aprirlo uno studio, vogliamo fare questo, mettiamo dei soldi assieme. E cose che sono sempre provato a fare. Porca puttana, quando andavo alle superiori, bellissimo periodo, sempre sotto l'ala di Angelo Cavallaro, le scienze sociali, noi avevamo fatto questa incredibile... Questo incredibile movimento di... Dovevamo raccogliere nel corso di un anno i tappi di merda delle bottiglie di plastica, no? Perché già l'Italia faceva la differenziata e Messina ovviamente era ancora all'astrigo, era terribile, e quindi ne abbiamo raccolti tipo un miliardo nel corso dell'anno, mi ricordo che era proprio diventato un meme dovevamo rompere i coglioni agli amici. Cioè erano cose che mi riempivano le giornate, ma che mi davano anche quel senso di... Rendo legittime le mie lamentele, e infatti, amico mio, questa è una cosa che forse non ho mai reso chiaro e mi dispiace, chiedo scusa, ma è il motivo per cui io mi sono così tanto arrabbiato con questa terra. Non è stato che non mi ha dato risorse, perché un po', soprattutto nel lavoro che io ho scelto di fare, ovvero quello del videomaker e poi dell'influencer, parlandone più ampiamente, c'è molto di devi essere affamato e devi prenderti tu, non aspettarti che ti arriva, devi prenderti tu. È proprio un lavoro indipendente, sei un libro professionista all'inizio e chissà per quanto tempo lo sei ancora. Ma la mia rabbia si è basata totalmente sul fatto che alla mia richiesta di aiuto e al mio... aiutare la mia terra, l'unica reazione che ho avuto per tanti anni, e non solo a Messina, è stata l'indifferenza, lo scherno e la felicità momentanea. È conflicità momentanea, è conflicità momentanea. Dico, scusami, ma come fai tu a convincere qualcun altro che non ti conosce, che non sa che cosa fai, a dire che dire... scusami, che dire sono uno youtuber, lo fa sorridere bene, non lo fa sorridere male nel senso che ti prende il culo. Con i soldi. Creo contenuti online detto a Messina in un determinato contesto, o a Napoli in un altro contesto, o in un quartiere poverissimo nella periferia Lombardi. Ma questo lo so, ma tu eri già risposto, cioè con i soldi. Cioè andavo là dicendo, ragazzi, quei sono i risultati, questo è il mio conto in banca, sta cosa sta funzionando, vogliamo fare qualcosa assieme? Io ovviamente, ma tu pensa, io questa roba qua ho iniziato a farla seriamente quando avevo 20-21 anni, e 20 anni erano già abbastanza per capire che non mi sarei mai potuto approcciare a un vecchio, o comunque a qualcuno a cui potevo chiedere, anche banalmente, il magazzino per fare le riprese con termini tipo content creator. No, ma assolutamente no. Portavo cose più alla mano, più fattuali, come i soldi, il fatto che vengo conosciuto online. Comunque, risultati portavo, non andavo facendo chiacchiere o... Ecco, capito, quindi questo. Cioè sembra quasi che ti sei creato una narrativa senza chiedermi. No, non è tanto... cioè può essere, ovviamente può essere. Ma capisco, ma capisco, anche io a volte lo faccio delle cose, quindi nessun problema. Dico solamente che... Scusami tantissimo, parla tu, scusami. No, capisco, molta gente sbaglia da questo punto di vista qua, ma non è neanche un errore che... Molta gente smerda la Sicilia e molta gente che smerda la Sicilia non... Lo fa perché lo deve fare. E come hai detto tu, è proprio il meme a volte di farlo, perché quando tu smerdi la Sicilia automaticamente ottieni delle persone che ti dicono già è una merda. Però ti giuro, è tutto un inchiostro quello della mia narrativa, fatto di lacrime, sangue e tristezze dovute da... cioè che mi hanno causate da persone e da contesti sociali, perché purtroppo le persone sono vittime in Sicilia, ma contesti sociali più grossi, istituzionali, che non vogliono che il piccolo diventi grande, non vogliono che il piccolo cambi la società in modo che questo lavoro può fare più successo, perché ogni volta che andavo, ad esempio, dal giornale di Messina, il tizio che faceva ancora la TV locale, aveva la telecamera di un miliardo di anni fa, non aveva uno... C'erano cose che io ho visto in tutta la Sicilia per tanto tempo e tuttora le vedo. Poi vado in qualsiasi altro luogo e vedo che lo step per cambiare queste cose è così banale, ci vuole solamente un po' di gnegno. Cioè io mi dannavo a vedere che io ogni singolo anno succhiavo i cazzi in giro per ottenere un po' di soldi per comprarmi la nuova videocamera, però poi le realtà dove andavo e pagavo e i miei genitori pure si affidavano a persone. Io sto parlando anche non solo del mio lavoro o di cose simili, ma la sanità, le forze dell'ordine, tante cose. Quello purtroppo... Tu hai un'esperienza molto da imprenditore, ok? Cioè nel senso... Lasciamo perdere che tu sei in conto di te. Sì, sì, la tua, la tua. Però io ti sto parlando di robe... Io sono sempre stato indipendente e tuttora lo sono. Non ho mai... Sto parlando proprio di esperienze di minchia, ma se a me, che ero già diventato super famosa a quei tempi, e che ho un linguaggio anche dedito al non far imbrigliare la mente di chi cazzo sto parlando in modo che se sentono content creator già mi mandano a fanculo, chiudono una porta. Figurati al fio di buttana che magari sta facendo il progettino per la scuola quante porte deve prendere in faccia e incazzarsi. È questo? E' la seconda parte del motivo per cui io sono arrabbiato. La prima è che alle mie richieste e a ciò che secondo me una terra ti ha... Cioè, sono un po' dei doveri che la terra ha verso i te. Mi veniva detto di no. L'altra parte era che molta della gente che dalle prime volte in cui mi sono lamentato mi contattava, mi parlava delle sue storie, e non parlo solo della Sicilia, anche da Roma in giù, e anche del nord, con quei paesini, queste realtà chiuse, e la Sicilia lo è per Antonomasia perché è proprio un'isola, mi hanno sempre raccontato di situazioni che erano così simili alle mie ma con una skin diversa, che mi arrabbiato. è una cosa che veramente mi butta a terra e quando, ad esempio, feci la grande cosa del tatuaggio, il messaggio che ovviamente tutti per grande convenienza tradussero in Marco odia la Sicilia, no! In realtà qua abbiamo qualcosa in comune, nonostante diversi da questo punto di vista patriottico. è un amore molto malinconico in realtà il tuo, ma certo, ma certo, perché io, ciò che... E lo odi, perché un po' lo odi, però è il tuo papà e dici, cazzo ti dovresti comportare come un papà, però io su questo tipo... Io non me ne sarei mai andato alla Sicilia, se funzionasse, io non me ne sarei mai andato, ma chi abbandonerebbe mai un luogo dove a dieci metri hai il mare, dieci metri a nord hai la montagna e qua c'è la collina, cioè è Minecraft, è bellissimo, però dal drone, perché poi ti avvicini, atterri e vivi là e capisci che non è giusto che in qualsiasi altra città chiedi e ricevi molto più velocemente di questo strano... di questa strana realtà siciliana. Scusami però Marcuzzo, il problema diventa come lamentarsi alla propria famiglia, cioè banalmente, questa, come tutto il sud in realtà, però la Sicilia in particolare, ha dei problemi che sono veramente endogeni, nel senso riguardano soltanto la Sicilia, è un problema solo siciliano quello dei trasporti interni, perché anche in Sardegna c'è il problema dei trasporti interni, ma del non riuscire a fare un cazzo non per un punto dal punto di vista geologico o geotecnico, il problema è politico all'interno della Sicilia che riguarda i trasporti. Quando tu dici mi chiudono le porte in faccia a me, che sono già un imprenditore, di me stesso, nel senso sono un content creator, e mi chiudono le porte in faccia, allora gliele guideranno pure al ragazzino. Questa cosa a me fa un po' incazzare, questo, ma che poi non è incazzare, mi fa anche un po' pena, però è la parola sbagliata, adesso non mi viene, è un pochino di malinconi, un po' di tristezza. Mi fa incazzare il dare per scontato che non c'è speranza, cioè mi fa veramente incazzare il dire tanto non c'è un cazzo a fare qua. Io non do per scontato che non ci sia speranza, io do per scontato che è difficilissimo averne. E io, uno dei motivi per cui me ne sono andato, è che più crescevo, più maturavo, anche di intelligenza, iniziavo a essere un uomo e non più un bimbetto che urlava e basta, mi sono reso conto che i problemi erano così radicati che io non riuscivo più a sacrificarmi se ricevevo risultati miseri. Era una cosa che mi dava così fastidio, cioè era allucinante per me a livello mentale venire, che ne so, ti faccio un esempio banale, invitato a una fiera del cazzo su e vedere tutti che sorridono, tutti i giovani che lavorano, era una cosa per me ho detto ah, ecco come dovrebbe essere. Ritornando all'esempio della famiglia della felice, andare a casa e l'amico tuo con tutti i giochi, con la play 5, la famiglia che si succhia il cazzo in cucina e dici vabbè, le mie citture non lo fanno. e poi torna a casa tua e c'è tua madre sotto il letto e tuo padre esplode. Di che stiamo parlando? No, non ho capito, perché questo esempio non ho capito. No, perché casa tua è una merda per dire, perché ritornando che la Sicilia è casa tua, ok, è casa nostra. Sì. Cosa nostra? Mentre che so, la Lombardia già è la casa di quell'amico ricco, no? Quella villazza meravigliosa con la piscina e tutto quanto. No, ma io non l'ho mai fatto questo esempio. No, però se tu mi dici che ti fa incazzare vedere che ne so, che da altre parti, altri contesti che possono essere tra virgolette paragonabili a quello che tu avevi in Sicilia invece vedi tutto bello, tutto è, non è giusto. Più funzionale, vedevo. Lo so, però ecco, anche qua io non ti voglio dire, guarda, tu sbagli perché non hai preso materialmente un carro armato e sei entrato nell'assemblea regionale siciliana e hai ammazzato tutti perché la colpa è tutta l'ora e sono i politici e la società è il problema. Io non ti sto dicendo questo, è un confronto più che altro perché noi viviamo due vite completamente diverse ovviamente, come tutti, però a livello proprio concettuale tu vivi una vita molto, come dire, incentrato su te stesso, tu lavori con te stesso e tutto quanto, dico, tu grazie a te stesso sei, devo porti il pane a casa ogni mattina, no? Io per esempio sono uno studente, studio all'Università di Palermo, faccio politica, faccio associazionismo, vado allo stadio e tutte queste cose qua. Tu vivi una comunità molto attorno a te, quindi vedi i tuoi, come dire, tanti tuoi io con cui tu ti confronti, non vorrei dire tipo, comunque tu stai nella tua comunità che ti sei creato tu, non so se sono chiaro in tutto quello che sto dicendo, dammi un segnale. ok, mentre io per esempio sono molto più aperto all'esterno, verso, oddio, verso quello che c'è oltre me, quindi che ne so, c'è l'associazione studentesca all'università e quindi mi confronto con sta gente che vive problemoni incredibili perché a Palermo da noi abbiamo un sacco di gente che viene dai paesi, quindi viene che ne so, dalla provincia di Agrigento, posti terrificanti, da Sancipirrello, da Roccapalumba, insomma, posti incredibili, e gente che viene a studiare, si sveglia alle 5 del mattino, viene a Palermo a studiare, se ne ritornano in paese, insomma, oppure abita in una casetta di merda che gli affittano a 300 euro per una stanza che in Sicilia lo puoi confermare tu, 300 euro sono tantissimi perché uno stipendio medio in Sicilia è tipo 700 euro, ok, 850, e questo, avere, come dire, la consapevolezza che tu, lavorare con questa gente, collaborare per azioni politiche, perché poi alla fine fare politica, fare associazionismo significa questo, cioè, muoversi per qualcos'altro, segui un ideale e ti muovi anche se ricevi merda in faccia, ti muovi lo stesso perché sai di poter cambiare materialmente qualche cosa, e poi ti rendi conto che qualche cosa la puoi fare veramente, cioè che qualche cosa materialmente la puoi cambiare, capito? Quindi noi stiamo parlando, io e tu, due lingue diverse, perché tu parli la lingua del personale e io forse... No, ma non è vero, ma ti ho appena detto che... No, un po' sì, nel senso, come faccio io a spiegarti? Ma se io vedo, se io vedo che una fiera su funzione, Giunò, è personale? Cosa? Se io, se io, è personale, è tipo io che ti parlo male della mia famiglia e da quella poi dipendono le mie opinioni generali sulla Sicilia, ma io ti sto parlando di quello che c'era fuori di me. ed è personale, cioè questo è personale? È il tuo mondo, io non so come spiegartelo bene. Ma allora io posso dire di te, allora io usando la stessa filosofia posso dire, eh ma quello è il tuo fanculo, non mi serve per capire che si possono fare le cose. Che vuol dire? Siamo iniziando un po' nella contraddizione, nel senso che stiamo cercando un po' di... effettivamente il discorso si è complicato un po'. Ma secondo me, ma secondo me, ti dico la mia, secondo me stiamo parlando delle stesse cose, cioè è inutile trovare differenze fra i mondi. Te lo dico perché secondo me una terra, indipendentemente dal mondo dove tu ti puoi gettare, dovrebbe aiutarti, giusto? O comunque non dovrebbe aiutarti le porte in faccia, che non è un non aiutarti, ma almeno non dovrebbe dirti vaffanculo muori, ciao, non riuscirai mai a fare nulla. Già quello sarebbe un passo, però succedeva questo. Secondo me, dire di me questa cosa qua dell'io mi sono creato il mio mondo, non guardo oltre, è strano, perché che cosa vuol dire? Che una volta che io mi creo la mia bolla dove tutto va bene, non posso parlare di cose un po' più esterne a me. No, ma nessuno dice che non puoi parlare di qualcosa. No, 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 sì, però tu hai detto prima che a differenza tua io non guardo oltre me. Cosa vuol dire? Nel senso che proprio obiettivamente il mio campo d'operazione, chiamiamolo così, io opero, tra moltissime virgolette, io mi identifico in un gruppo, per esempio, mi identifico in una comunità di gente, che lavora su vari ambiti, ambito territoriale, ambito universitario, ambito sociale, queste cose così. Ok, tu, quando dicevo tu parli da imprenditore, perché tu stai guardando il tuo settore economico, tu stai dicendo io lavoro con le fiere, banalmente, oltre che con tutto il resto che fai, però, ma fisicamente in Sicilia io lavoro con le fiere. Sì. E vedo quello, come vengo trattato con le fiere a Catania, la più importante, l'Etna Comics, la più importante fiera che c'è in Sicilia, forse al sud, non lo so, forse no, rispetto al nord, c'è da mettersi a piangere. E io ti dico, buongiorno principessa, cioè di che cosa, cioè il problema non è tanto la, non è chi ti chiude la porta in faccia, ma il problema è perché ti viene chiusa la porta in faccia, cioè provare a lavorare, che poi può sembrare tipo, capito, Don Quixote, che stai lottando contro i mulini a vento, perché tu vuoi cambiare la terra, vuoi dare speranze e cose, però quello che ti dico io è, allora possiamo criticare veramente tutto, allora con questo atteggiamento dovremmo dire, picciotti, siete tutti dei coglioni, fatevi delle valigie, se avete vent'anni e avete le porte chiuse in faccia, fatevi delle valigie e scappate, il consiglio che vi do è andare via, e questa cosa è pesantissima, nel momento in cui la possibilità di, come dire, unirsi per un obiettivo comune è... No ma certo, ma io non dico, io non dico che chi resta è uscita qualche volta, cioè su questo non si può essere ipocriti, però perché da te è uscita qualche volta la cosa, fate le valigie e andatevene, se odiate il posto, se odi il posto e non ce la fai, e io sentivo questa morsa dentro di me, cioè che io sono fatto, e qua si parla del personale, se tu personalmente senti che anche con la sensibilità che hai e con le risorse mentale che hai non ce la fai a vivere in un posto dove devi sacrificarti dieci e non cinque, vattene, ma io do degli eroi a chi invece rimane e cerca di fare qualcosa e non mi è mai uscito dalla bocca che chi resta è un idiota. Vuoi dire che veramente con questo atteggiamento purtroppo, sai, l'odiare, non è che io, capito, sono fan della Sicilia, non lo so perché sono questa cosa strana masochistica, oppure sto bene economicamente e di conseguenza, chiaro, è facile vivere in Sicilia se stai bene economicamente, stai bene dappertutto, io non vivo bene economicamente, ok? Senza che la gente si fai i cazzi miei, però, però è una cosa che può cambiare. Assolutamente sì, però ti dico, riduciamo il problema a un problema, per esempio, facciamo finta che la Sicilia è l'università degli studi di Palermo, no? Se c'è qualcuno in chat che è dell'università degli studi di Palermo capisce quello che dico, come tu quando andavi a Messina, attenzione, c'è tanta differenza, o in qualche università di merda è la stessa cosa, ok? Però prendiamo l'università degli studi di Palermo e la Sicilia, quindi un sacco di gente, un sacco di gente diversa anche, no? Che parla con accenti diversi. Ma questo è un po' prenderla sul personale, non pensi? In che senso un po' prenderla? Cioè stai riducendo l'idea della Sicilia all'università di Palermo, non capisco. Ti sto parlando del come agire con un problema che ti sembra estremamente macroscopico, ok? Stavo facendo questo passaggio senza avvisarti che stavo facendo questo passaggio. Ok. Ok, c'entra un problema macroscopico, no? Ti vengono chiuse le porte in faccia, ti sembrano tutti lontanissimi da te, ti ridono in faccia, ti dicono odia questo posto e vattene. Sì. Non c'è posto migliore per confrontare una regione e un vivere quotidiano con l'università, secondo me. Ma quello che è un po' un po' forse è stata anche la mia colpa è che forse ho voluto creare questa estetica della Sicilia come se non funziona niente. Io, la maggior parte della mia carriera e delle mie amicizie e dei miei amori di tutto quello che ho vissuto e che hanno vissuto anche le persone che conosco, la maggior parte, tra parentesi, l'ho vissuto in Sicilia. Quindi sono la prova vivente che non è vero e non c'è forse bisogno di dirlo ma forse dovevo perché poi sono diventato il portavoce dell'odio contro la Sicilia non è vero che non funziona nulla. Effettivamente può funzionare. Il mio desiderio di andarmene e di consigliare alla gente di andarsene è nato quando ho visto che quelle cose che mi funzionavano in Sicilia in altri luoghi e in altre situazioni con altra gente in altri ambiti proprio in altre città a volte in altri luoghi venivano ottenute molto 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 prima e purtroppo è arrivato per me e qua lo dico un po' piangendo è arrivato per me un momento era arrivato per me un momento dove dovevo anteporre me a tutti gli altri cioè io il discorso era un po' questo il discorso era io posso rimanere qua e spaccarmi il culo e diventare il simbolo del se sforzo il muscolo diventa più grosso soprattutto sotto pressione perché è un po' questo quello che vivevo ma notavo che più facevo queste cose qui in Sicilia più mi incattivivo e stavo veramente per o ammazzarmi o ammazzare qualcuno salvo per davvero siccome non c'è niente di peggio per aiutare gli altri che ucciderli o uccidere se stessi me ne sono andato l'avevo veramente anche sensorialmente per me era l'unico modo per salvare sia me stesso che le altre persone che poi avrebbero ottenuto una comunicazione da parte mia o anche solo un aiuto fieristico comunque in tutti gli ambiti stavo proprio meglio e questa è la cosa che volevo consigliare alla gente che non si trova bene ad esempio per come ti trovi bene tu ovvero a buttare quel sangue ma sapere che alla fine ci sarà un traguardo il fatto che questo traguardo era molto offuscato è ostacolato da gente che senza dirtelo mai ti voleva ostacolare perché ci vuole mangiare un po' di più voleva rubare quei soldi ho avuto molti amici nella politica siciliana che mi hanno raccontato storie che se le racconto viene qualcuno ad ammazzarmi sotto casa e tutte queste cose le sappiamo e quindi tutte queste cose qui io non ce l'ho fatta e lo vedo un po' come codarda come cosa perché nessuno ama scappare dai propri genitori e dalla propria casa cioè sarebbe stato fighissimo per me vivere in un luogo dove spendo pochissimo perché sotto si spende veramente poco non solo nel cibo in tutto cosa che proprio non puoi farci niente perché a Milano se vuoi mangiare spendendo poco come giù puoi farlo è una minchiata che non si può però cose come case servizi sotto effettivamente costano di meno c'è solo un pazzo avrebbe abbandonato quel posto se non vivendo la vita che ho vissuto e che purtroppo vivono tante persone quindi il mio consiglio va a queste persone qua ovvero quelle che non ce la fanno e non capiscono e che vedono un po' come irrazionale e illogico il non aiuto che gli arriva da un posto più grande di loro questo però chi resta let's go ogni singola volta che dimmi dimmi sai cosa è che avere la possibilità di parlare con un sacco di gente come tra l'altro facciamo praticamente tutte e due in realtà quindi confrontarsi con tanta gente e avere tanti punti di vista io ho conosciuto un ragazzo a Palermo non lo faccio il nome perché non mi interessa ne fare pubblicità ne niente c'è una conversazione con te questo ragazzo lavorava a Bruxelles mi pare anche per una roba europea insomma un'abbastanza importante nel suo lavoro non so per quale motivo ah per le elezioni comunali a Palermo noi venivamo da un periodo particolare perché il nostro sindaco è un sindaco storico quello che ha rappresentato la primavera di Palermo insomma a in Sicilia a Palermo si stava candidando un partito che è la democrazia cristiana che vabbè la democrazia cristiana quella vecchia è morta che non facciamo un recap di politica ma il il segretario di questo partito che è la democrazia cristiana siciliana è Totò Cuffaro cioè Totò Cuffaro ok è quello che chiamava il il mafioso Guttadauro per dirgli sai che forse ti stanno intercettando Cuffaro era presidente della regione siciliana quando faceva questa cosa e chiamava un capo mafia a dirgli forse ti stanno intercettando quindi occhio a come a quello che dice al telefono il coglione però lo diceva al telefono in tutto questo perché i siciliani sono intelligenti come i tuoi fan non siete deficienti quindi questa lui sentendo sta notizietto ma sai che c'è ma vaffanculo io scendo mi candido non come sindaco ma come consigliere comunale e vediamo come va ma io dobbiamo fare qualche cosa perché sta andando tutto a puttane bravo cioè a Palermo Palermo è un pochino più come dire è un pochino più fighettina è la metropoli siciliana ci sentiamo tutti col cazzo gigante perché noi siamo a Palermo poi ci sono un sacco di palermitani che parlano in maniera strana cioè non so se io ho un accento strano non sembri così tanto palermitano è strano infatti sai perché? perché io seguo te seguo gente che prego prego comunque è vero comunque veramente non voglio che passi la storia che se qualcuno sta giù allora hai il mio odio perché doveva andarsene no no ma questa idea non c'è perché allora mi fa piacere che tu racconti queste cose ma cioè che ero è che è stato sto tizio qui capito infatti quello che ti sto spiegando è proprio lui adesso ha aperto a Palermo un centro vabbè ok lo dico tanto interessato tanto ai palermitani sia Epic che sta European Poly Central Youth non lo so non so che cazzo vuol dire però è figo perché si chiama Epic l'ha aperto vicino al teatro massimo quindi centralissimo questo posto era un ex scuolo un ex asilo un monastero non si capisce che cos'era lui l'ha ristrutturato tutto con una banda di balor di ragazzi di ragazzi che hanno detto vabbè ok siamo completamente rincoglioniti pure noi facciamolo quindi dal nulla più totale bello e in quel centro è stato aperto la casa dei rider che sarebbe sai i fattorini no i deliver tutte queste cose qua questa gente tra l'altro super sfruttata che non hanno un posto materialmente dove andare nel momento in cui piove c'è la tempesta e noi ci siamo ordinati pensavo proprio a quello cioè riflettiamo su questo questa gente adesso ha una casa materialmente là possono andare a cagare perché materialmente non lo possono fare se non nei ristoranti e quindi bagni di merda nei bagni pubblici quindi ok questa gente può andarsi a ricaricare il telefono che gli serve per lavorare questa gente può andare a pulire lo zaino che puzza di merda io non so se tu hai mai usato uno zaino di un rider la mia ragazza fa la rider ok fa le consegne con il motorino ok non so se hai mai usato quello zaino di merda fa una puzza è quella gente via con quella puzza dietro la schiena che la senti mentre sei in motorino è bruttissimo quando tu apri la borsa davanti ai clienti senti quella vampata di merda e quindi ora questa gente è un posto dove è ora il problema è andare tra un ordine e l'altro dici sai che c'è invece di starmene sotto seduto in una panchina o seduto nelle scale me ne vado nella casa del rider mi ricarico il telefono mi guardo la televisione mi prendo il copino e ne vado di nuovo a lavorare una cosa normale una cosa normale bello è stata a Palermo cioè ce ne sono mi fare due una a Napoli e una a Palermo cioè al sud bello questa gente che è riuscita a fare questa cosa ma io non dico che fanno male no no ma io non sto dicendo che tu dici ora non giochiamo al io dico che tu dici però allora ritornando all'inizio allora la critica dove sta cosa che sono te sbaglio nella mia comunicazione eh no ok forse questa è già la domanda forse un po' posta meglio perché se dall'altra parte esce Marco Merino odia la Sicilia Marco Merino però è anche un po' normale che esce perché se ero tipo la mamma della famiglia e dicevo odio la mia terra qualcuno mi avrebbe chiesto con grande curiosità aspetta cavallo cavallo trattino basso di trattino basso palermo ha donato due euro vai purtroppo io devo in parte dare ragione a Marco ho trenta anni sono un montatore e a palermo non riesco a trovare una realtà per me c'è l'atmos c'è l'atmos in realtà che saluto bravi a palermo comunque vabbè parlavamo d'altro grazie comunque della donazione ma andai a te stronzo non so che cazzo ci stavo parlando scusami era attentissimo anche io no 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 di cosa stavo parlando scusami mi ha distrutto atom no tu esatto mi stavi dicendo allora dove sta la critica e io ti ho detto ah si 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 il discorso che esce ah no lo che stavo dicendo era che è un po' normale che è anche un po' conveniente per chi ascolta le persone che hanno un po' di notorietà o che comunque vengono ascoltate da tante altre persone dire Marco odia la Sicilia perché è una frase vera ma se poi mi chiedi che cos'è cosa c'è che non va io ovviamente ma soprattutto in una situazione come questa che nessuno può ottenere io a cazzo ho trovato il tuo è stato culo questo è leggendario nessuno può ottenere quindi è normale che passi un po' la narrativa del Marco odia la Sicilia e basta qualsiasi cosa però io pensavo ed è anche il motivo in cui ho aperto il messaggio che ti ho chiesto certo andiamo a parlarne che me le hai chiesto tu hai accettato io pensavo che nelle mie due miliardi di volte in cui ho parlato male della mia terra un po' avessi un po' più chiarito quelle che erano i punti di cui abbiamo discusso qua non al cento per cento cioè nel senso non hai mai in quei in quegli spezzoni in quei momenti in cui tu parlavi di queste cose come l'hai raccontato oggi per esempio tu non l'hai mai raccontato cioè non hai avuto forse mai in realtà sì molte volte soprattutto qua in live molte volte in live ci sono anche video di stupi che lo dimostrano no ma cuzzo io ti seguo non è che non ti seguo non l'hai mai fatto in questo modo nel senso del l'ho fatto e sei convinto ma non è che sono convinto l'ho fatto ma l'ho fatto ma non ci fa niente se non l'hai visto mica uno può vedere 30 miliardi di cose no ma quello che ti sto dicendo è che quello che che poi come dire esce fuori tutto il discorso del fate le valigie andate per esempio è che tu non stai dicendo come invece hai detto qua e mi hai detto a me non è vero ma il post stesso del tatuaggio dico se odiate se odiate quel post andatevene ma non è vero ma se odiate quel post andatevene minchia cioè è estremamente non ce la fate andatevene cioè se ma non vuol dire che se invece imboccate le vi imboccate le maniche vi do degli idioti ehm vi do della gente sacrificata che è secondo il mio personale parere questa cosa non dovrei neanche dirla in live sta perdendo più tempo di uno che dovrebbe impiegare per ottenere un risultato però io sono io e mi vedrei in quello stato e non non dico questa cosa semplicemente perché loro tu sei tu e ci trovi un tesoro è una bellezza fra queste cose io purtroppo non sono fatta così infatti mi metto la lingua nel culo e non non faccio mai questi discorsi qui però quando devo parlare in un post di instagram di queste cose qua il massimo che posso fare è mettere un gustosissimo se perché perché fa la differenza sta anche un po' nel buonsenso che io spero sempre spesso fallendo nella speranza che ci sia negli altri nel capire che ovviamente se dico odiate del posto allora abbandonatelo non vuol dire che chi rimane è un idiota specialmente se voglio mandare un messaggio in un account dove mi seguono in centomila capito? sì ma infatti poi tutto il discorso ricordiamo da dove partiamo perché poi a una certa ci perdiamo partiamo dal la somma di tutte quelle volte in cui tu hai parlato male della Sicilia a volte l'ho fatto in maniera molto balord sì ma ecco uno chiedeva per esempio in chat sono io soltanto che riesco a distinguere quando Marco Trollo dice vero no perché si capisce secondo me neanche io lo capisco ormai siamo tutti viviamo tutti questa grande confusione no però per dirti la cosa strana è che a me ha fatto incazzare un video dove palesemente tu stavi trollando tra molte virgolette o comunque facevi molto il clown ma quale? però a me mi ha colpito un po' no video scusami l'ho spezzata ma non è troll è vero i fan si comportano in maniera stupida giù sì però chiaramente tu l'avevi un pochino più esagerato chiaramente però quelli là che fanno quella parte là ti giuro che ci sono non mi voglio male io l'incontro pure qua ma l'incontro un sacco giù ma poi c'era un commento molto interessante del video che stavo tolto che diceva voleva ammazzarmi il commento però diceva una cosa interessante diceva l'influencer ottiene ciò che semina è molto interessante come commento da mettere in un video dove io voglio creare una dicotomia ovvero i fan si dividono in quelli del nord che hanno una comunicazione e quelli del sud che ne hanno un'altra perché lui la metteva in modo molto generale e mi criticava a me di generalizzazione quando io stesso utilizzavo la la divisione e volevo anche capire un po' perché perché comunque è interessante dire ma come mai giù non il fan non riesce a dirmi qualcosa in più e ovviamente qua il discorso diventa non solo molto interessante ma molto ampio ovvero anch'io direi è un'acqua non è verde se avessi una mamma che quando guardo qualcuno come Lorenzo favij su youtube mi prende per il culo io qualsiasi show che mi faceva stare bene a meno che non era quello che mi faceva stare zitto perché a un certo punto hanno capito con me che il trucco dei videogiochi è che se mi li davano io mi stavo bello zitto a un certo punto sviluppo anch'io una cosa che le uniche cose che possono che posso dire quando le uniche cose che mi vengono date come serie sono le minchiate sono le minchiate i tormentoni mentre mio padre mentre mio padre mi diceva che tutto ciò che facevo era merda poi però se c'era strisciano notizia che prendeva in giro quelli che si rifacevano vip grande risate e grandi applausi quindi era un odio molto sai quanto veramente mi fa imbestialire passare in cucina mentre mia madre si guarda strisciano notizia e sentire che ne so si ani che è una merda o mai logica lo capisco il cento per cento ma per questo io per questo io non voglio non voglio mai quando io prendo in giro i fan non voglio mai prenderli in giro solo per il gusto di dire siete morti avete nel dna la sicilia e ci morirete no assolutamente no vorrei fermare però c'è il senso è chiaramente come dire estremamente esagerato quello che stai dicendo perché no cioè non esiste la vera sicilia ma poi questo sto dicendo che non voglio dire questo no appunto appunto che sembra che io dica quello ma ovviamente non dico quello il fatto che poi c'è una gente che ci crede e la gente poi questa cosa la dice magari i siciliani che dicono minchia ma sai che forse ha ragione e qua amico mio andiamo in un discorso con cui io combatto mentalmente ogni giorno ovvero devo rendere ogni mio dialogo un documentario scientifico facendo annoiare o faccio un attimo ridere e chi non lo capisce se ne va un po' fanculo eh lo so ma la gente ti segue perché tu sei così nel senso voglio dire io non ti seguirei se fossi un che ne so Adrian Fartate grazie lo seguo pure Adrian Fartate ma è un posto lui lo so era per dire uno che spiega tutte le cose siamo molto diversi ciao Domenicone ciao grazie però allo stesso tempo quando anche se è una cosa che dà fastidio dirti tu sei un influencer hai delle responsabilità nel momento in cui fai un determinato discorso delicato ok occhio perché c'è della gente che magari ha quello che tu dici non posso avere la responsabilità su quello che capisce la gente certo se ti seguo 300 cristiani in parte ce l'ho ovviamente però in parte tanta sì perché c'è come dire non dobbiamo essere come dire come si chiama ragio io dobbiamo essere tutti uh uh va tutto bene spieghiamo tutte le cose non bestemmiamo ma per determinati tipi di argomenti si potrebbe anche cercare un confronto cioè io ho questa idea grossissima parliamone assieme cioè ho questa idea pesantissima su questo determinato concetto per esempio se è una cosa che ancora non state facendo con Daniele io lo aspetto nel senso l'avevate detto forse che era quella live o quelle live di confronto da tutta la gente che si era incazzata per il discorso dei disabili perché siete abilisti e tutte ste stronzate guarda la live di domani minchia che spoilerone va bene guarda la live di domani guarda cosa succede è bellissima questa cosa è bellissima le live fatte con con i ragazzi 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 transessuali Alex e Carly bellissima anche una delle mie preferite bellissima cazzo veramente perché là si capisce quello che è quello che cazzo volete dire voi voi perché in questo caso c'è pure Daniele in mezzo che ragiona allo stesso modo rispetto a come viene appreso perché voi vi confrontate non con quello che dite ma con quello che viene appreso con quello che la gente capisce e forse e forse quello che ho sbagliato in tutti questi anni è che ho aspettato un sacco prima di confrontarmi con qualcuno quindi forse questo è quello che dovevo fare fin dall'inizio perché secondo me cercando un po' di tratturre se ti metto parole in bocca dimmelo perché mi sto zitto tranquillo quello che dici è che io non mi sento responsabile se qualcuno soprattutto io che faccio comicità quindi non sono il politico non posso prendere e parlare di cose che non capisco o anche se le capissi non ho mai fatto attivismo quindi al massimo devo generalizzare un po' nei messaggi però non riesco a prendermi la responsabilità di chi capisce merda Marco odio quel posto e tutti quelli che ci stanno dobbiamo andarcene così ci ama e io mi amo solamente perché ho l'idolo che mi ama se me ne vado terribile disgustoso cioè non mi prendo la risposta di questo però ora che ci penso mi sono sempre secato da solo su questo discorso qua nonostante nella mia vita abbia sempre avuto gente che aveva da ridire su queste cose qua e poi ne usciva un discorso così quindi da questo punto di vista quasi dovevo fare più chiarezza ma minchia sono proprio scemi i fan di giù sì sì è vero non è vero siete tutti bellissimi ed è colpa dei vostri genitori quindi la frase diventa sono tutti scemi i genitori di giù assolutamente sì la colpa è della generazione precedente e della società ma in realtà nonostante sembri una frase cagona mi dispiace che siamo arrivati a un momento sociale dove la colpa è sempre dell'intimo non di quelli più grandi quando invece secondo me soprattutto se stai male da adolescente è ovviamente cioè tu ti rendi conto che noi non avremmo una pensione banalmente cioè la nostra pensione farà schifo per colpa dei nonni di adesso perché loro hanno il classico il classico discorso sì me ne rendo conto non la vivo tanto male perché ho paura ma anche certezza che quando avrò 90 anni farò ancora i balletti ma per chi invece magari come te o chi come te ha un lavoro un po' più di istituzione dove si spacca il culo in maniera sistematica è terribile non avere un futuro dove puoi riposarti fa schifo ogni volta che la gente mi parla del grigio testino che gli aspetta dopo aver studiato e lavorato per tanti anni mi viene la pelle toga e mi dispiace quindi non ho niente da dire da questo punto di vista no no va bene va bene comunque sento che c'è il clima della chiusura secondo me ci siamo mi è fatto piacere salvo anche a me tantissimo veramente cioè comunque da fan parlare in live con te è una cosa incredibile quindi c'è il piccolo salvo che ti segui a 14 anni che in questo momento è impazzito sono molto contento sono contento di quel salvo là grazie grazie del tuo tempo ti voglio un gran bello ti voglio un gran bello un bacione un bacione ciao vienimi a trovare a Palermo Comico un prossimo anno quando quando vabbè poi ci sentiremo va bene settembre ciao bacioni ciao ciao